benvenuti a qui tu sul gaming e a volley pass e a è un casino allora volley pass se vi siete persi ai puntati precedenti non vi siete persi niente però però è interessante come gioco prima in su e via cioè è stupido è veramente stupido ci giocano le ragazzine ma a noi ci piace cioè a mario piace a me sto buscando soltanto quindi non è però amici perché fai ste cose no perché mi si è ridotto la grandezza della palla palla madonna guarda che mi sta a chiamare poste mi sta a chiamare mamma mi sta a chiamare pure gesù mi sta a lavorare poste ma non sapevo sentite questa vibrazione fastidiosa io sì però sono sconcentrato però stai pure facendo cacare ma c'è ragione adesso scusate un attimo ma avete visto sono stato un avversario sport 8 io sono stato sportivo eh annaggio la madosca si vede la tua sportività ti ripaga sempre comunque te vaffanculo guarda io vengo punito te vaffanculo sono sportivo e vengo punito te peter in giufill no mi sei disattivato il salto no mi bravo sì ero lento quei tasti su rallentano o porto carzi di meggia mi stanno a distrarre tutti però non è questo sì sì mi sto a rincoglioni vaffanculo vaffanculo no ok 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 è stato bravo non troppo madonna che ha fatto molto no palla grossa di me bello che molto spesso non me ne accorgo di avere eh lo sporto cristina da pena si vaffanculo questa palla che si riduce madonna non avevo visto che ero disattivato il salto non mi potevo muovere si me la manda me la manda giopata e hai avuto tutto il tempo per riflettere sulla vita sulla morte cristo no si muro muro io sono un tradizionalista voglio il mio slime ino verde non è come peggo non ci sono i poteri no ho sbagliato ti meritavi di giocare col bot no 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 il bot no ragazzi può sembrare che il bot sia un aiuto un aiuto ma non lo è su questo gioco c'è anche un minimo di tattica perché uno può mettersi dietro o davanti io in questo caso mi ricordavo sta cosa qua e ho fatto una puttanata per esempio no bene allora sto mappa bisogna essere molto molto bravi manneggiala ma si dicevo bisogna essere molto bravi a gestire quella merda lì porca troia no no sono andato dall'altra parte piedra in culo no si guardalo chiedere in culo no si ma come perché si era bloccata a me si 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 va a vaffangura mamma mi trovavo la ball raffanguro tu alsa palombella sono per vola sono per vola si 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 porto noia non vale così si 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 non ho capito come fare palle alte dite l'ingulo va bastardo e non lo lascio cuocere nel suo brodo dite l'ingulo va no perché non sale certe volte cioè io prima stavo sul pulsante non è salito perché se io ti porco si no cazzata che ho fatto ma merda opla si capace proprio a risalto si 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 come cazzo fai oh che palle siamo 1 a 1 valla al centro no 1 a 0 1 a 0 1 a 0 fermo questi allora qua c'è un mini gioco nel gioco si ci sono delle grosse mani robotiche che giocano a morra cinese e fai punto anche con la mano robotica se riesce a toccare i bottoni posti sotto la mano ha fatto due punti ok e porco no ok vedi così fai due punti siamo pari ok ancora ma perché mi cagano il cazzo tutti quanti a me devi spegnere il telefono quando registriamo almeno quando registriamo sto gioco porco ma che merda no ok merda merda guarda che non cambia sto porco due o si buono no cristo oh cazzo 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 si dove ci pare no si ho vinto perché no perché no ci è fatto punto da solo che merda adesso capiterà una mappa diversa però così impari a farmi i pallonetti da viviamo al cazzo di angolo o no il fantasmino è bastardo fantasmino che fa mi aiuti oppure pare si è stato tutto ha salvato lui tu comunque sei stato scasso Oplà Prendilo, prendilo No, no, perché hai fatto sta cosa? Ho sbagliato, ho sbagliato È che sono agitato Why? Perché potresti vincere Vabbè, non succede niente Come no? Dì che stiamo a giocare a soldi Come no? Oh oh Bravo, molto bello La competizione Sì Arta Buono, buono Sì Ma dai Madonna, mi sta a fare un cappotto Di quelli allucinanti Devo giocare bene Adesso Cerco di giocare bene Eh, però sei Se il fantasma mi si mette contro Guarda Hai finito a cacarmi la minchia Vandà Eh, niente Sì Noo Ha fatto il suo primo punto Questo è solo l'inizio Grazie Grazie Guardo Guarda che la Ma dai Quando lo dovevi prendere Figlio di una baldracca Buono Guarda Ma gli fa l'assist Il fantasma Ma guarda Era un'ottima palla Fantasma La devi lasciare No, porco Eh, vabbè No, è una rottura di coglione Sì, sì, sì Buono Fanculo Eh, ci ho provato a mettergli la Buono Però è un fantasma Sta avendola meglio Dio Sì, ma tanto Non ti preoccupare A te ti aiuta Sì Bravo Aggressivissimo Si è inarga Sto giro No Cioè Io faccio delle schiacciate Da paura Però là Un ricevitore Assurdo Proprio Sono un ripetitore No Che rompi coglioni Vince lui Bravo Bravissimo Che bello Che bello Il fantasma Io sto soffrendo Tanto Ma Noi ci vediamo Al prossimo gameplay Fateci sapere se vi piace Altrimenti Non lo portiamo mai più Non credo Io penso che lo stiano Giocando tutti È troppo bello Il gioco più bello del mondo È più stupido del mondo Fanno il fantasy 16 Togliti dal cazzo Arriva Volley Pulse